Marco Merlino, non dite niente a Marco Merlino Con gli amici quando è che ci riorganizziamo e ci rincontriamo sarà un video un po' Diciamo Cinematic Studios, ecco Ma in che senso devi fare un video contro Marco Merlino? Eh? In che senso devi fare un video contro Marco Merlino, Croix? No, nel senso per un video che ha fatto una cavolata, che ha detto, che per me è una cavolata Riguardante quello del wrestling, chi crede, chi vede il wrestling ancora a questa età, dei problemi Cioè, offese Ha detto questo Ma era palesemente una bantuta, Vito No, sì, ma nel senso, posso fare pure un video di... ovviamente quel video sarà ironico Ma non sarà tanto, la gente non gli piacerà tanto il video per il dissing che gli farò a Marco Merlino O per la critica che gli farò Ma per le scene che ci saranno, non vi voglio spoilerare nulla Vi dico... Non ho capito un cazzo, Vito Don Vito, ma che cazzo dici, porco Dio Ma che lingua parli Ci sarà azione, ecco, ci sarà azione Non vi spoilerò nulla, ecco Vabbè, vabbè Poi più avanti, vi ricordavate? L'ammezzo che ci sarà pure la cosa su Fartate? Eh no, quello domani lo disse in line Domani, Fartate E che gli dici? No, hai fatto per come è diventato famoso, un po' per il cringe, ok? Che lui ha studiato di quadirama, è diventato famoso Guarda, avrai sicuramente un po' di spettatori Che c'è stato un sacco di persone in chat Che le vedo belle Oh, Dio, Dio, Dio Perché siete in live No, ma si si è sentito tutto Ma veramente, guarda che mi viene il panico Sì Non mi sento molto bene Non mi taglierò le vene Mi serve una trasmissione da vedere In punto di morte Sono a casa in cadene Gli atti escono tutti insieme Ecco un po' di castinazione Che presto cambia la mia sorte C'è Se venite in Puglia, non vi preoccupate Casa mia è grande E ho due divani letto E due letti Più il letto quello mio Ma quello lo uso io Ma sei ricco? No, non sono ricco Ho la casa più o meno grande Però un divano mi è stato regalato Da nonno ai miei genitori Quando si sono sposati Un divano è quello che abbiamo comprato Un po' di tempo fa Si aprono Un divanetto Tiene un asse in meno Però Non vedo tra le streamer italiane Qual è quella che ti faresti di più? No, dai Non sono quella persona che Oddio, beh Ne stanno tante Doveci dirmene una o due? Però Non andiamo in privato Non Vabbè, tanto non ci sente nessuno Alice Play Che è una bella ragazza Che fa bodybending Pure Bukalalla Ah, pure Buga Però a primo posto Cioè Alice Play Ma gliel'hai mai detto a Buga? No, vabbè Ogni tanto qualche battuta Io l'ho fatta Quando è che sono andato ospite a lei Che Ogni tanto E mi piace Quindi Poiché più Una ragazza però Già sposata Che sta in questo serve In nome però E sposata E Però No, no, no Non pensate a me Allora E sposata No, la lasciamo La lasciamo stare No Niente Lasciate stare Non Nel senso Pensavo che era fidanzata Che era single Però poi ho scoperto Che sposata Però la seguo Molto Ed è Non era single Pensavo che era single Invece sposata Però Perfetto Adesso Taccia Per cortesia Taccia E Benvenuti In questa nuova Trasmissione Oggi live un po' diversa Oggi si giocherà Con tanti ospiti Come avete sentito C'è Don Vito C'è Ivan Salve Barba Navarro Ciao Velli C'è Don Vito C'è Hank E chissà chi altro Praticamente Stiamo aspettando Che tutti Si connettano E che Omi Ci tiri Dentro La stanza Di Discord Giusta Intanto Ti contattalo Che è la cosa migliore Intanto Vito Ma senti Ma se tu Attivassi La web In questo momento Però poi Se sto in live Non me la prende Su OBS Ah in questo momento Ok 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 Tu Discord Si 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 Facciamoci vedere Un attimo Tolgo il coso Di qua Che Dove sta Hello 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 Closhard Secondo che sta Ok Ok tolgo Un attimo Arrivo su Discord Dove sta Ok Eccolo Ciao Oh ma ti sei fatto il green screen Ma hai fatto un salto di qualità incredibile Si E voglia E voglia Ho fatto il green screen Poi con i soldi che ho fatto Per il lavoro Volantinaggio Non con Twitch No No che è successo No Ah bella raga Eccoci Ciao Ehi Eccoci Buonasera Buonasera Ciao belli Buonasera ragazzi Come state Ciao Don Vito Tutto a posto Ciao ragazzi Si ciao Buonasera Buonasera Come stai Tutto bene Tutto bene Tutto bene Tutto bene Dovrebbe entrare pure Erchitano e Il Trono del Muori Quindi Oh Vediamo un attimo Vito Si potresti riattivare la webcam Per cortesia Così almeno guardiamo tutti quanti quello che ci stavi per dire Che era molto interessante Pure Andrea sarà sicuramente curioso Di cosa state parlando? Pazzate Delle streamer Di cui Vito è innamorato No Come no Per piace Non Non facciamo la cosa che Grazie Sei innamorato delle belle poppe Quello tutti Nel senso Non solo io Sei in compagnia Don Vito ti posso dare un consiglio Ora che sei uno streamer Che quindi con Twitch Diciamo ci lavori Più o meno Da un due mesi Posso dire che ci lavoro Perché sono riuscito Diciamo pure io A fare Diciamo Quel gruzzoretto Cioè ovviamente Non pensate Questa è tanta K No se magari Ma Scusami Andarti in Pelagani In relazioni con le tue colleghe Non mi sembra un'idea Fulgissima Don Vito No ma mica Devo Stiamo scherzando Ricordati che ogni volta che si scherza c'è sempre un fondo di verità Vito Devo uscire da disco e rientrare Mi date qualche minuto Poi forse c'è Non so Simone sicuramente non c'è che deve finire delle cose grazie a Antonio Forse c'è Forse c'è Non lo so Forse possiamo sentire Vanessa Mister Beast Napoletano Se c'è Io sento Vanessa Sarà contento due dubbi Sì no No è molto simpatico Molto auto Autoironico Ah meno male Meno male Vediamo se D'altronde è napoletano Grazie Azzu Vediamo se resisterà Vanessa sta giocando con i mates E comunque ragazzi Posso uscire e rientrare un minuto Che si è Dai però Vito Dai Faccia come vuole insomma Eri già rientrato Se ci sono mappe quelle più piccole Se volete intanto ci possiamo riscaldare Guardate voi che siete più esperti di questo gioco Noi non ci capiamo un cazzo Ma in che senso? Che senso? Non ho capito che hai detto Va bene Allora Stavano delle mappe pure più piccole Delle mappe più piccole Hank tradito così Male male Vabbè i mates hanno molti più soldi ci sta Effettivamente Ma non hanno quello che hai tu Hank Vogliamo fare una partita di Penso No una partita si può fare Se siamo in 9 Se siamo in meno di 9 Non ha senso Ok Ho entrato il chitano Bella chitano Oh bella raga Bella Tornato Don Vito Quindi siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Siamo 8 Perché noi contiamo per due Se serve qualcuno posso chiedere alla mia amica? Eh Porta l'amica Porta l'amica Porti l'amica Qual è la tua amica? Eh Quella con la faccia da porca No No Sicuramente Ivan Hai detto tu Ma io l'ho detto Ivan ma tu avevi detto porca un'altra cosa No Io non avevo detto nulla È stato Andrea ha modificato la voce di Giorgio Grazie Certo Sono tutti così Ah eccolo C'è stato Don Vito Perfetto Don Vito Io ti voglio qui Guarda Ti estraggo pure Ti metto qua Anche in video Don Vito Sì 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 Don Vito in video Un secondo che vado pure io live così Siamo così Mettiamo Mon Gas E Don Vito lo inseriamo Lo inseriamo chirurgicamente capito? Proprio così E gli mettiamo pure il green screen Perché non glielo metti? Ma vediamo come lo avete messo Perché mi conosco qui Come è che l'hai appiccicato Don Vito? Il telo dietro Vediamo Sì Enrico mi dice Che è full è possibile Ah Mi ha fatto la stanza? Sono letteralmente da solo Ma il server è Europa o America? No Sempre Europa Europa Che è l'America In realtà a me Tutubi Si vede bene Perché l'ho impostato Tramite OBS Normalmente Quindi sei anche un po' distante È un po' per silenziale Vito È proprio un verde Da peste bobonica No mi dissocio No mi dissocio Vabbè perché? La stanza ce l'abbiamo No aspetto È una cosa brutta Che per fortuna non esiste più No dai Non ho capito Che problema c'è? Allo stella c'è No vabbè Un po' per piccolo Ah comunque voglio salutare il mio subgiffer numero uno Cominciamo No 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 Siamo in altre live qui Non monopolizziamo col suo canale di merda No Ma ecco di possibilità è il mio amico Chris Che mi ha regalato 13 subblad Ma non ce ne frega un cazzo Che rispetto mio su di lui? Muta ti lo dici? Grazie E come si chiama? Anch'io volevo regalare Ringraziare Chris Marr220 Grazie Chris Marr Sei un amico? Chris Marr Però io grazie a internet ho avuto odio Mi si vede perché C'è la cosa frizzata qua Grazie a internet Ah ecco perché mi si era Grazie a internet Dove lo prendo rega scusate Grazie a te Che te sei in vita? Il codice d'accesso è una partita Quello che dobbiamo prendere pure noi Dobbiamo ancora crearlo Aspetta Ah ok scusate A posto allora Un video stavi dicendo Grazie a internet Eramo tutti curiosi Scusa No grazie a internet Grazie anche a Twitch Queste cose Si fa un Rapporto di famiglia Anche con i fan Oddio Ci sta qua che fanno Che mi offende Qualche hater Che mi offende Ma Quello è un altro discorso Ciao Thomas Ciao Thomas Anche a me A me fa piacere Tutti quanti voi Mi saluta tutti Quelli che scrivono in chat Vabbè Non c'è niente Come a te Che stanno Mille persone Che parlano Ciao Thomas Di vita Ciao Thomas Scusami D'Ovito Ciao Thomas Di vita Ciao Doria Ciao 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 Cicciume Ciao Allora Vito Adesso Ti abbiamo messo Al posto di Marra Su OBS Puoi fare un'imitazione Di Marra Al volo Oddio ma è bellissimo Vediamo Un secondo Devo entrare nel personaggio Sì devi esercitare La tua democrazia Vai Questo è un meme Oggi siamo Parliamo di una persona Quale persona Serve Nel senso Oggi parliamo un po' di Enfra 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 Come si dice La Un po' di Parliamo di gente E non so Come Quindi Aspetta Ciao 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 Canary Entrate in lobby Ragazzi Raga Entrate in lobby Aspetta Io c'ho il vento Che mi Cosa In screen Mi dissocio Dalle Mot Che hanno messo Qua in chat Un bel cazzone Ti hanno messo Mi dissocio Di solito Mettono Quelli No hanno Messo il pugno Comunista Pure da quello Mi dissocio Sia che mi manda Il codice E il codice Pure a me Eh me la chat Qui ragazzi La chat di discord Ah ok Secondo che è attivo Anche la Cioè Apri gioco E tra un po' Mi vedrete sparire Deci ragazzi Capi Tutubi Tra un po' Mi vedrete Sparire Nell'obbligo Non facci preoccupare Ma che significa Sparire No vabbè Devo togliere la cam da disco Se no i fan Non mi guardano No Li prego Vito no L'obbligo si dice La famiglia degli abbonati Non i fan Vabbè La famiglia Io Per me Sono tutti Fratelli e sorelle Vediamo un po' Nei che meno Io ho sentrato Stranamente Enrico C'è Guarda Quando A gente Si sta Followando Mamma mia Grazie alex E vi ricordo Domani Aspetta Mi cambia anch'io il nome Ci possiamo mettere i nomi Normali Che è in Indu Che è o Indusivo Io Indusivo No Cos'è Il flame Sì Il tuo flame Asperti Ok Grazie di quello che stanno Followando Grazie ma nella chat Io non lo vedo il codice Do sta Nella chat General Di Del server Ah io avevo cliccato No 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 Dobbiamo cambiarci i nomi No io ho sbagliato Dannazione No Ok Ok così va bene Almeno capiamo Perché non mi Legge la cosa Ragazzi Scusate la Bumerita C'è un commento di Simo Volpe Che basta Te lo rispanno Ah grazie Simo Volpe Sì Simo Volpe La stanza è piena Eccomi Riavvia il gioco Ecco 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 la pancura Ok chiamati Ok chiamati Simo chiamati Cr7 Te qua Così Vieni vieni e sentasse E io come mi chiamo scusate Non Vito Non Vito Ah Vito se non lo sai tu Venga e sentasse Ancora aveva un nick specifico che voleva Oh mia Ci siamo No Come cacchio si faceva Ok Ok ci sono ragazzi Quanta gente Grazie 171 spettatori No che è successo Grazie a tutti Grazie a tutti Buonasera Grazie a tutti Ciao Zlatan Ibramimovic Grazie a tutti Abbiamo messo troppo Dobbiamo fare un'altra stanza Appena arriva il codice Tutti veloci dentro E Aspetta Avete giocato Comunque se Se quando stiamo in stanza Enrico mette pubblica e privata Cambia la La stanza La privacy della lobby Non crash Omi Mi hai detto di chiamarmi CR7 CR7 Aspettiamo il codice Quanti siamo ragazzi? 9 10 Aspetta che c'è Don Vito che sta in un'altra stanza Capito Enrico Sì ho capito Grazie Ma chi ha spostato Don Vito? Ci dove sbaglio Comunque manca qualcuno Ora arriva Esentasse Arriva Vanessa Tra un po' Non so quanto però Ok Va bene Va bene Va bene Quindi iniziamo Ci siamo? Cotam Ah ok Siete pieni ragazzi Mi dice che siete pieni No è buon errore No è buon errore Ma fa Tentra pure a me Mi insiste Don Vito Ah se ce ne provi più volte poi entri Fanchia Oddio E il server Nord America o Europa Ti pare che siamo in Nord America Ti pare che siamo in Nord America? Eh cazzo ne so io Ma il trono Mastrozzo Trono sul gruppo C'è se c'è sta C'è potrà Ah è vero il trono del muore C'è sta discord L'abbiamo linkato pure prima Ma siamo in set Siamo in set Siamo in set No c'è sta trono pure Il trono del muore Ok let's go We are ready In nove giochiamo Nove Nove Io sono entrato Chi si è preso il giallo? No Omi ti saluta Molex L'altro si Mi prendo il marrone merda Me lo tengo Chi mi saluta? Primissimo che entra Partiamo dai Oh 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 E chi è Uno che ce l'ha un po' a molliccio Mol L'X Vabbè Chi è Vito Chi è Mi dici Chi è Risolvi Mollo Ti faccio Salutare Ora Aspetto I soldi Quindi Ci siamo C'è il decimo Allora si Ma facciamo una di prova Dai C'è il decimo ma iniziamo una di prova Va Iniziamo Va bene Iniziamo Passato fin troppo tempo Bravo Arrivo Intanto magari interagiamo un po' con la chat Che mi dici Gianluca Eh Dico Ciao Fammi aprire la live di Omi per scammare Non riusciamo neanche a Mottiamoci tutti ragazzi Bravo Ok ho aperto la live di Omi così scammo Non riusciamo un po' con l'accesso Fermo Un po' su D Facco le cani Allora No Questa è una cosa gravissima Ma questa è una cosa gravissima Ecco Allora Hanno ammazzato Hank Aspetta a livello Ok Hanno ammazzato Hank Dove? Grazie Frax Allora aspetta 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 Don Vito Si Tu eri ai meteoriti giusto? Si Stavo a fare i meteoriti Ma dove sei andato? E niente Stavo andando Stavo per andare giù Per fare la tra quest Però nemmeno il tempo di uscire dalla stanza Che già hanno segnalato il corpo Ma dove sei andato? C'è andato la stanza dei meteoriti? Eh? E Ivan tu? Io stavo facendo il download sopra i meteoriti Ma dov'è il corpo? No E da dove venivi? Ero a fare il download E poi hai chiamato la cosa Io ho votato Don Vito Perché? Perché? Io ho visto Allora E dove Io ho visto Io andavo verso l'allarme E ho visto Omi che non andava verso l'allarme Però Non è che C'è solo questo Chi è che ha parlato? E' stato il titano Il titano Le luci erano spente Non potevi vederlo E mi sei passato il titano Era giallo Era giallo Mi sei passato il centimetro No io non ti ho visto Il titano Eh perché non sei stato rapido No no non ti ho visto Il titano è uno E forse l'altro è Don Vito e Ivan Io voto Don Vito Io ho detto Io non ho fatto a tu Ho detto che ho visto Don Vito Se sei tu Dillo dai Vito Vabbè dai Questa qua è easy Dai Vito Regà non è Don Vito Sarei cosa mi hai Ho pensato Ho pensato Ho pensato Ho mi ha torsi Abbonato al canale Ho mi ha torsi Abbonato al canale Ma come Vito? A dopo Vito No Vito no Ma era l'impostore? Eh non te lo dice No Lo saprai solo alla fine Ma prima lo diceva Quando ci giocavo io Lo diceva Tocca a stazia Vabbè Non li siamo mutati Noi siamo mutati Ok ok Quando ci giocavo io Mi ricordo che lo diceva Allora X wiring Che palle Allora Mi sa che ti rimette le cuffie Gianlu Scusate era CR7 Io avevo capito che Omi si chiamava CR7 Che si era messo sto nome Vabbè Ma c'è scritto Ti credo perché mi potevi uccidere Ah raga ma l'ho fatto io Ah ok bravo Ma infatti Mi era sbagliato Che è successo? L'ho fatto io il meeting Mi fate parlare E lo sto dovevo di una causa anch'io Hai ragione Allora Uno di impostore è sicuramente Flame Perché si è scordato di mettersi le cuffie Quindi ho sentito che ha ucciso uno Dai si muove Ma porco Dio Ma non è vero Ma sei stronzo Ma non trollare Ma gioca serio almeno Ma non è vero Alla regala Sei E tu stai con le cuffie Sarai tu Allora No Aspettate Guarda sta nel panico Sarà Vede cuffie che non esistono Sarà sicuramente Guardate la live Allora Guardate la live Non votare ancora No 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 Ma come cazzo Questa è una cosa gravissima Ho capito zi Dai non posso andare avanti Mutame là Non posso andare avanti Questa consapevolezza Mi devi capire Eh se hai detto le cuffie Ti non senti Ti metto le cuffie Ti non senti Fai uscire da Da un'altra uscita Fai uscire dal monitor Tutubi concorderà con me Che l'altro è Ivan Allora Fermi ragazzi Chitano E rincoglioniti Basta per favore Non io Sono Sono Obia Tolla E Dudubi Per favore Non facciamo cazzate Non facciamo vincere questa partita Che i tuoi troll Di venti Troppo ti aspetti per Ivan Nell'effetti adesso Chitano Portamente Non Eliminare Flame Che era letteralmente un assassino E scemo Chitano Portesemente Non facciamo cazzate Votate tutti quanti Dudubi Votate tutti quanti Dudubi Io ho votato il vero assassino Ma non è Ivan Ivan è andato a fare con me L'ossigeno Ivan sei un villain Vai zitto Vuoi far buttare fuori Il guete Ma veramente Dobbiamo giocare così Date retta a qualcuno Che capisce qualcosa Che cazzo fate Rincoglioniti Porco giù Siete dei rimbambiti No Ivan No Era proprio Un cazzato Devo un attimo Risolvere una cosa Scusate Perché me lo mette le cuffie Se no Non si può giocare Con Dudubi Uno dei tanti SMT Forse è il mio però Ma il tuo SMT Samsung Mi vede proprio Mi vede proprio Le porto Però purtroppo Qua abbiamo questo problema Che se Simone Sente quello che accade Gamma Voce degli altri Qua SMT Allora Allora Però aspetta Ho cambiato pure su Lo ricambio a qualsiasi Secondo me No La ripesta E Guarda Il tuo punto Si Ha cercato Devo entro lì Io non lo so C'era lui nella stanza Però era a buio Potrebbe non Non lo so Stato Io CR7 Sicuro Eh sì No Certo Sì sono io Eh non lo so Raga 50 e 50 Però Dudubi È il più Sospetto Grande Ho vinto CR7 Grande Flame No Grande Flame Eh Grande Dudubi Allora Ti ho passato Simone L'ho un po' trollato Eravamo in nove Ma mai C'è Simone Mi ha fatto rosicare Ha ucciso lei Che non c'è il feedback Quindi potrebbe essere Proprio un trollino Simone Ma perché avete votato Me inutilmente Eh che cavo Se non votevate me Avevamo vinto Ciao Don Vito E' il primo morto Come stai Ciao 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 Gioco pure con lei Grande Prova No riprova Riprova Ok Scusa Hank Se t'ucciso subito Pagato Aspetta Grazie Grazie Sì sì Devi riprovarsi Sto mangiando ragazzi Indovinate Da merda Ma mi dissocio Ma cosa Ti dissocio Ma sei casino Eccomi amici Bello Ti sento Dudubi Gioca serio Però non per il cazzo Con i tuoi troll Ho giocato serio Pezzo di merda Fatata Nel vero senso della parola Io non mi fido Metto grosso Sto coso Perché bisogna coprire il codice Perché non è una fatata Hai capito Sta allagga come la morte Me sta allagga Stream Comunque Ergitana me aveva segnizzato Eh ho beccato Timone vicino al cadavere Ma ha fregato sta cosa Guardi me Di me Marco Che ne so Sei un trollino Difficile da capire Poi eri pure vicino al cadavere Ci siamo tutti? Ah proprio Ma a parte che posso pure in bocca Sì sì Ci stiamo tutti Mondateci che vedo Ciao ragazzi Lo capisci che vedo? E devi spendere nel monitor Che hai davanti Ma sta lì E come fai? Che succede? Che succede? Questa sera mia Porco Dio Che cazzo è successo? Porco Dio Ah Come fai a non vedere? Ma cioè Non devi sbirciarsi Dai già Già l'u Uccidimi Vai in caffetteria Ma trolla Zitrolla La fa terzo un postore Ma che terzo un postore Dai È sì No O mi uccidi o ti reporto No dai Vieni uccidere O ti reporto Rovini la live Stacco la live Lo vuoi capire Ma rovini la live Ma è andata così Posto talk No Che è successo? Chi è che ha segnalato Ho visto il cadavere Chi stava dietro a me C'era un personaggio Sul Forse era Oddio O mi Io 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 Ero Io C'è anche L'indicazione Che ho reportato il cadavere Io Dunque mi trovavo in admin Per Sui fare Stiamo andando giù A fare l'altra cosa E però Sì ma Io ho reportato Io parlo io Con Vito Allora Vito Fai parlare anche però Dai Se no stiamo Per Una alla volta signori Allora Niente Mi trovavo in admin Sono sceso giù E ho Visto il cadavere Non ho neanche visto in realtà Mi si illumina In realtà So il cadavere di Barbarona C'era con me Don Vito Che è sceso in quel momento Quindi per questa uccisione È scagionato Anche Il tuo dubbi è scagionato Per questa uccisione Guarda Io potrei scagionare Trono Perché stava con me In elettrica Potrà confermare Sì E ho visto pure Il chitano lì Esatto C'era pure chitano Perché all'inizio Ha fatto il download Mentre io facevo i meteoriti Chi è che all'inizio Stava in Weapons A fare il download Mentre io Stava fare i meteoriti Stava fare i download Io All'inizio proprio Sì e poi stava andando A fare l'altro Che mi ha visto Tu che tanto hai fatto? Io ancora Ancora niente Eh Eh No Eh Sono spettino Simone Simone L'ho visto Che stavano fuori Tutubi Stavolta Quel posto Dove Vedono Tipo Ragazzi Come si chiama Stava Alla Admin E Sfaccendato Simone Però È Un Libi Preciso Non capisco Per il posto Al posto del tasto Per fare le tasche C'ho tipo Kill Ma che vuol dire Ma che strano Perfetto No scherzo Scherzo Le ho fatte tutte Scusa se certi comandi Non funzionano Le ho fatte tutte Schipiamo 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 Io ho votato Io ho votato Io ho votato Hank A buffo Io non l'ho votato a prescindere Io ho votato Hank Almeno non può parlare Uccidimi Vai Via Via Devieni in un posto sicuro Dove sei Simone? Weapons Ma ci sono tutti Devia a sinistra Guarda omi che Devieni in un posto sicuro Devia Guarda omi Guarda omi Tanto non dico niente Ammazzommi No 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 Uccidommi E poi me Vai Ammazzommi Andiamo a ammazzare le persone Andiamo a ammazzare le persone Ma c'è un timing Aspetta Ma perché è chiuso qua? Oh sta arriva C'è C'è Siro Don Vito Ammazzò Don Vito No ne vedo Non si usiamo troppi Fra me fa una fake task Devo far push to talk su disco Che è successo? Pronto? Ho trovato il corpo Ho trovato il corpo di Omi In caffetteria No Questa è una cosa Oltremodo gravissima Ragazzi io vorrei fare una domanda Prima Stavo facendo È stato Erchitano ragazzi Stavo facendo No Ma non riesco a finirla Com'è che si fa? Perdonatemi Quale? Eh? Quella che riempi le fiale Quella che sta sulla sinistra dei caffetteri Devi aspettare Devi aspettare Ah ok Clicchi una volta Poi ci mette 59 secondi Poi ci torni E scegli quella che al colore rosso Ho visto Erchitano correre da caffetteria Nel corridoio a sinistra Quindi è stato Erchitano Ma è vero che corre in una caffetteria Stavo a fare tasche No tu stavi correndo via Nel corridoio a sinistra Le foglie Sentendoli Allora io posso suggerire con una certezza forte Dell'80-85% che Cesiro non è un assassino Perché siamo rimasti chiusi all'interno di una stanza per lungo tempo E non ha fatto nulla Ma lei è matto Mi distorce Ho chiesto scusa Mi accanto dalla cosa Ma io la denuncio Mia nonna quel vicino Appena morta Mi distorce Ho chiesto scusa Possiamo concentrarci Che è morto Andrea È morta Andrea ragazzi Vogliamo trovare Oh è morto Omi Eh ma allora Il cadavere era in caffetteria Io ero alle telecamere Ho visto Erchitano correre nel corridoio in alto di Matt Bay Da caffetteria verso sinistra Perché stai correndo via In quale frangente Perché prima ne avevi detto che stavi nelle telecamere Dicevi solo che mi avevi visto a caso No no Ma passate un tempo fa in caffetteria Ho fatto le foglie e ho buttate fuori Poco prima della chiamata ti ho visto passare Poi sono sceso giù Ho fatto le altre tasche delle foglie E poi sono andato a destra E fa quella che c'è stato Tipo uno scudo Che devi cambiare i colori Da bianco a rosso Posso dire una cosa Comunque quando ho trovato il corpo in caffetteria L'ho trovato perché le porte erano chiuse Quindi ho girato a caso E ho trovato il corpo in basso a sinistra Le porte erano chiuse Erchitano potrebbe essere Un sospetto vivente Io schiferei per adesso Sto mangiando la patata Io perché ti metto a mosso Ma non sono stato abbastanza con voi Magari è quello Io mi voglio fidare il Chitano Adesso Ringrazio drone ragazzi Non dubito Non causare la mia fiducia Do dubbio e flame Non hanno parlato Ma tu è di Ivan però Ma Simone perché non gliene frega niente Ivan sarà il prossimo Chitano dovrà restare in vita Obiettivo Killare Aspetta che Non sto giocando CR7 Don Vito deve rimanere Perché Don Vito lo inculperò Primo o poi Come faccio vedere buono Quanto c'è CR7 Per due kill Ho fatto io Faccio vedere buono Fammi restare insieme a Trono Che mi difende CR7 Ammazza qualcuno Eh raga Io con i tasti Sono un po' negato Quindi Troppo sto a giocare Per me Ivan si dirigerà Se rivede sta live Non sapete giocare Ma chi è? Che è successo? Ma chi è o? Che succede? Vito Vito Ho visto Mr. Flame uscire dalla battle Non è vero Vito Che cazzo Ragazzi Cliccate Dimmi Don Vito Staffa La giocata Della vita Oppure Dimmi Dove Riccita Malissimo Cioè io Stavo Desta Recita No 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 Lo giuro Se qui Volete All'altro Insemo Poi C'è anche un'altro Chi era Scarlasse Chi era L'altro C'è un'altro C'è un'altro C'è un'altro C'è un'altro C'è un'altro Mi informa che c'è Il cadavere di Barbarella No Guardate Don Vito Convodato Chitano Per Sbaglio Lui Pallesemente Che cosa Ti ho piuttosto Sbaglio Marco Perdonami Ho visto Mr. Flame uscire Dalla Dimmi Dove Dimmi Quale Bodo Aspetta E' anche morto Intanto E' anche Se Bodo La Don Vito Quale Bodo Qual era Se l'ha Visto Rega Ragione Oggi Non lo so E' un'altra Pericolosa Lì Quando sei venuto Sopra La Caffetteria Una Alla Volta Per Carità No Sul Serio Che Mi Dice Viva Allora Per Kitano Io Stavo Facendo Una Tasca In Alto A Caffetteria Ed Venuto Molto Minaccioso Poi Ha Fatto Finta Di Fissare Ho Smesso Comunque Secondo Me Er Kitano E Flame Sono I Due Impostori Intanto Votiamo Flame Vito Perché Don Vito Figurati se Dice Regalo Dieci Sub Se Non Flame Non Vito Far Serio Se Non È Mr. Flame Non Ti Crederò Mai Più In Vita Mia Don Vito Se Mi Stai Mentendo Rega Siamo Ancora In Tempo Guardate Che Per Guardate Che Stamorendo Poca Cente Io Schifo Don Vito Tant'hanno Votato Tutti C'è Mazzano Votato Solo io Don Vito Eh Niente Che devo Fa Ma tu Cazzo Mi ha Visto Don Vito Avevo fatto Stava Fungame E pulito Ma tu Cazzo Stava Bene Bene Ora Vabbè L'altro E' CR7 Ma Dà La Mano CR7 Dove Ma chi è CR7 Ma che ne so Ma come Un certo Simone 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 Volpe Qual è Qual è Il tasto rapido Per aprire Mappa Io che ne so Sta in alto C'è col mouse Lo sto chiedendo alla chat Ragazzi qual è il tasto rapido per aprire la mappa da sabotatore Tu la vedi la chat Un cellulare ho messo Ah eh Rispondi un po' la chat Io non posso vederla Tab No il tab è quella normale Tipo la mappa da sabotatore Questa Ah io ok Un po' da santo cielo gioco Sono bravo io Questo lo devo a me Mi hanno ucciso E vediamo come va a finirci CR7 Tutto Io lo risolvo Dove era avuto dubbi Era in Generate Aspè si chiama Generate Dove stanno le cose No in Reactor Scusi in Reactor E non ricordo Tutto a sinistra Con la sinistra Era proprio in mezzo È presente con la tasca Che si fanno Che devi cliccare Cosa Proprio in mezzo Là è morto Allora Io escludo Escludo Credo Erchitano Perché è arrivato da sotto A destra Dentro elettriche Sei proprio accusa a caso Che cercate No ho detto escludo Escludo Ah escludo Sto dicendo che non sei tu Ok Per me è Sesiro Eh bravi ragazzi Sesiro Ma tu sei matto Il pro Aspetta Don V Perché te Mi stai Per culo Non lo so Perché Erchitano Tu dici che non è Erchitano Ivan Perché io non so te lo giuro E tu mi stai dicendo che non sei Allora può essere secondo me CR7 Erchitano o Don Vito No Don Vito Sicuro che non è Don Vito Perché sei così sicuro Perché siamo stati da sole E mi poteva ammazzare All'altro punto Me pussa Chitano Io voglio bene Chitano Ma Però ragazzi Io non so perché Nessuno sta facendo le tasche Però se vedete Io sto a fare Le tasche Sicuramente Due dubbi E flame Non le staranno facendo Quei due Depensanti Io sinceramente Ho sospetto Che adesso Sesiro Però pure Per Ivan Perché Possiamo Schiparci CR7 Lo stavo facendo Un cazzo Sono abbastanza Uomo Non me nascondo Lo stavo facendo Un cazzo 3 kg Lo facciamo Però non voglio Veghita Schipiamo Cerchi altri voti Però se CR7 Ho votato Il CIO Topkiller Ma io prima Perché non stavo capendo Tra Chitano e Flame Avete detto Trenta nomi diversi Il più sospetto CR7 Al momento Ma Ma come Io A partita dopo Devo sistema Attimo Discord Per far push to talk Se volete fanno Un'altra Vedi Il ceglio Un tasto Per quel push to talk Non so Non mi sei Bacchiato Discord Non riesco più a vederlo Lascia Devo uscire Dal gioco al volo Ok Poi ne fate Una tazza di me E poi rientro Tranquillo Stiamo zitti Vediamo Don Vito Che sta facendo Tasc Vediamo Don Vito Che cosa fa La cosa brutta De sto microfono Che ce l'hai Davanti la faccia Già c'è una maschera Che non vedo niente Eh vuoi Ti metto in posizione Tattica E quello Per la modifica Bacioni Grazie A te Ma cosa sta a fare A parte pure Io non sto a fare Sabotaggino A chi è Tattica Ha spento le luci In pratica Eh sabotaggino Possiamo fare Quattro Tattaggio I sabotatori Possono chiudere le porte Votate CR7 Per favore Per quale motivo Ho fatto una fake task In navigation Non è vero Ho fatto Non sono io Ho fissato anche le luci Sono sempre il primo A fissare la roba Di solito E' di solito È l'inputstore Che fissare E' beh Io ero I re navigation A fare le mie task Visto pure Da home Quando non è in live No Io ho visto che stavi lì E non è salito un cazzo Cioè mi sono due E non è salito Cioè ci vuoi Ma sono Metagaming Metagaming Non è Come faccio io Chitano Se non sono Dammi letta a me Se non è lui Ma non sono io Sono io Mi potete buttare Mi votate Mi voglio fidare di Ivan Non sono io Eh non lo so Rega Siamo fidati tutti di Ivan Non era lui Vabbè eliminatemi Ma quando non sono io Mamma mia Ivan Sei proprio uno String sniper Grande Ivan Sei proprio uno String sniper Mi veniva Ivan Hai capito Mi veniva Ivan Solo un centino Meno male Puglielo Cazzo Puoi sempre che Flame CR7 CR7 puoi uscire Per favore Che entra Siamo 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 Va benissimo Ciao 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 Panetti E' un bello Che la tasa è un po' cercato Ciao Grazie Mi serve il nome della stanza Rega della chat mia Durante quei pezzi sto zitto Mi dispiace perché mi si è buggato Discord Vabbè Tanto fra un po' Vado Finalmente sono giallo Oh Ma tu non hai visto Flame che mi uccideva? Io? Sì Io ero in combutta Come? Era venduto Perché tanto Leva lì che se no lo rivedo Perché era la seconda volta di fila Che dalla regia Vedevo che Flame fosse impostore Dacci sua Lo dubbi Lei è Ivan Sei uno stream sniper Di primissima categoria Di dive a Rockdolli Per colpa di Ma quale stream sniper? Vai a vedere se sto nella tua chat Io sono un mentalista Vabbè ci vuole poco ad entrare con Mozilla Fai le foto No Vedo che sei pratico Vedo che sei pratico Vabbè Non è pratico Basta avere un 200 IQ Cosa che a te viene Solo quando te non stai live E l'avete visto la mia giocata Vedete anche quando tu hai live La scuola è una scosta Andiamo Simo? Aspetta È stata una bella Prende l'antiscame Sennò scamo il coso È stata una bella La mia giocata Sarà normale Vestito da San Lorenzo Proprio Panetti Ok ci sto Mi dobbito ci vuoi raccontare La tua giocata Ma non stai Ma non stai Ma ho visto Mi sembra Mi piace Dalla botola Sgamato Ma dalle 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 Gap Ho giocato Sì Bravo Ma è stato forte Io non pensavo Beh Ero sicuro Che mi aveva visto Però Fa scherzo La pippa a giocare Che ha tutto Però Tre kill Le ho fatto Tanto quello Faccio Moletà Don Vito Porco No Don Vito Innocente Don Vito No No È successo Io ho visto Con chi è che facevi le tasche Io non ho fatto Assolutamente niente Sono stato con Barbara Tutto il tempo Non è Paura di Barbara Non è Io Cavoli Io vi ricordo una cosa Io non so se ho visto Simone che andava di là Non voglio dire niente Però Ai meteoriti Ai meteoriti E anche marmanella non sono stati Tutto questo il cadavere dove era che non ho capito Non credo che tu possa dirlo ho ucciso io perché stavo Io sono arrivato da sotto e ho visto Simone che faceva una task Perché mi accusa sempre E adesso E quindi E quindi Uccidevo i vostri No aspettate io però Alla fermi Io posso dire una cosa Il primo turno E io stavo a fare foglie No no Non votate Simone Non votate 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 Simone stava facendo una task probabilmente Dentro ho due Sarebbe stato pazzo ad ucciderlo e a rimanere lì E allora c'erano anche barbarelle e Simone Io e Barbara non ci siamo neanche mai mossi da caffetteria Ok Barbar Tuppi Un'ottima 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 Scriviamo Scriviamo Il primo Io Schippato Grazie Che non ho visto Il caso Fin da prima ragazzi Perché c'è poco Bene bene Simone Bene Simone Bene Diretta Barbarana Non ero Stop trolling Io nel dubbio Il dubbio Il dubbio Oddio Questo qua è trono Guarda Il dubbio Io so che c'era la luce Però io so lento Che no de malus No Oh 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 C'è un assembramento Qui Meglio Così almeno Non muoiamo Non muoiamo Non muoiamo Non muoiamo No Questa è definita Porco Oddio Porco Non riesco a fare Stasca semplicissima Eh Mi pensi La stessa mia No È un'altra Non è un'altra Oh Sono rimasto da solo Però Questa cosa Non va bene Oh Ci ha chiuso fuori Ci ha chiuso Qua dentro qualcuno Aspetta Sto fuori Ah qua Io Ma guarda Non è chiuso Che è oh Ma niente Non è buono Raga Non mi voleva ammazzare Easy Eravamo rimasti Abbastanza buoni Dai 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 Che possiamo vincere Con le tappe Mi dico Vai Non lo so Non la vedo Vabbè però è giusto Perché se ci scrivono Gli all'impostore Cosa sicura Poi ci rovina nel game Quindi purtroppo L'attacco Modicon No ma lasciala libera Chiude le porte Di impostori E basta Ma se uno sta vicino Alle porte Deve uno stare L'allarme Dello spiegato Ok Vedo Vedo Che qualcuno qua Vuole di nuovo Accusare meno No Ma Adesso Ma Io Non ho mai accusato Simo Ma io Ho bene Ma ti ricordi Va bene Così C'è un cadavere Tutti puntano il dito Puntiamo un attimo Il dito sul cadavere No E calcoliamo questo Ma Che parlare E disse Poi Le luci Scusate Scusate Di stanza Scusate 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 Ok Perfetto Era l'allarme Dell'ossigeno Siamo andati tutti In là S'entrata Navigation E l'ho trovato Lì C'è di messo Un botto Arriva Nella sala Dell'ossigeno Che c'era Ma Quella è colpa mia Io ho visto Sono te Quella è colpa mia Perché No Nell'ossigeno Io non sono andato Bravo Perché pensavo Io c'è Andato Io Stavo Risolvendo L'ossigeno Che ci ho messo Mi sono 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 Allora E l'ossigeno Sotto e sopra C'era l'allarme Sotto siamo andati tutti Ok Sopra l'allarme Continuava ad andare A go go Senza che nessuno Lo fermava Per ore Io ci ho trovato Chitano Ma Chitano Non so da quanto Era lì Non so da quanto Era lì Perché non è venuto Con me Potrebbe avere visto Aver ucciso qualcuno E se era andato lì No ma C'era più arrivato Io ho visto Cioè io ero arrivato Poco prima di te L'ha stato Dove spegne Aspetta Chitano Dove hai trovato C'era anche Marmara L'ossigeno L'ho staccato L'ossigeno L'ho staccato io Sono arrivato Buongiorno Nella botola Stavamo tutti in là E erano tanti Ha una certa Sono arrivati tutti L'ossigeno L'ho staccato io Sono stato in compagnia Di Barbara Sempre tutto il tempo Nessuno di due Ha ucciso l'altro E quando L'ossigeno Hai staccato l'ossigeno Ma allora So anche Barbarella Scusa Stanno sempre insieme Uccidono insieme In ogni Per volta Cioè Siamo un po' Stupignini Che era uscito Dalla botola Non mi piace Non mi piace Questa difesa Hai staccato l'ossigeno Quello si chiama Lapsus Chitano sei uscito Dalla botola No? Oh ma come? Chitano ha detto E' il botolaro Ma chi è che era uscito Dalla botola Allora Io Ti tengo un occhio C'è qualcuno E' uscito Nascosto E' uscito Blame Credo Tocca E' un posto di un cazzo No no Non me lo dita Voglio potermi Non voglio di niente Così Voi lo sapete Chi è che mi ha ucciso Simone no Quindi adesso Vedremo Simone Io intanto Finisco le mie tasche Voglio far vincere La mia squadra Mannaggia Mannaggia Ma ho fatto bene Infatti Un po' brutto Che non posso Posso pure fare il touchpad E Un po' complicato Dutubi Eccolo Dutubi Seguiamo Dutubi Raga Seguiamo Dutubi Così commentiamo Sì Morto Don Vito Ah no Morto Nessuno Andrea Andrea Io l'unica cosa Dutubi Non andava giusto All'allarme Però non so Se stava L'ho aggiustato Solo che c'è il touchpad Ci metto tanto Ah Perché ci sono Iramine Andrea Hai chiamato In un meeting Ma non parla Perché voglio accusarti E voglio accusarti Anche Barbarella Sempre insieme Siete tutto il tempo zitti Vi ho visto Dalle videocamere Sì Come dire Dovete dire Che siete degli assassini Parlo a cavolo È strano Che girate insieme Posso giustificarmi Posso giustificarmi Posso giustificarmi Per favore Onde Questa cosa che stiamo facendo Si chiama giocare al gioco di Among Us Ok Ok Se nello stare con qualcuno Guarda c'è un cazzo Siamo su una navicella di merda C'è una guerra Siamo tutti Ma quindi Sospetta Stiamo facendo le tasche Stiamo facendo le tasche Il fatto che gli assassini stiano insieme È una strategia Che può uscire solamente Da un buco del culo Come lo stesso cervello Che ha ipotizzato Che io fossi l'assassino Quindi Non ha senso Quindi Io schifo Tu sei un buco di culo Te l'ha detto Fratello No Se sei geloso di Barbara Mi dispiace Scelgo un altro La prossima volta Votiamo anche Omi Tu stai sicuri Così Ma cosa c'entra questa Potete dire Simone Tutti gli altri Chi avete votato Io sono sicuro Che tu sia un buono Perché cazzo ne sai Vot'ammazzo Se vuoi accusano te Io ho votato Ivan In alto male Però voi che state sempre insieme È sospetto Si gioca per non farsi ammazzare Che molto spesso Ci si aiuta Così Tra sospetti È il contrario Il sospetto È un morto Per garantire Di non essere mai uccidato Perché Barbara è buona L'ho vista Sare le tasche Ho tirato a caso Perché la probabilità È un'altra Che cosa divertente Che Vot'ammazzo Ho visto sci anche Nella botola Sì Vot'ammazzo 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 Aspetta Se mi chiede dove Dico quella Aspetta Lo dico io Guarda C'è siro come me No Non posso Aspetta Quale botola Quella di Upper Engine De Air Bay No 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 Upper Engine Upper Engine Siamo sempre insieme Vai vai Perché non è Hank Non è Hank Non è Hank La cosa fa ancora più rire Faccio dire il T Che succede Ho visto Hank Che usciva Una botola Ok Io non sono mai uccidato No 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 Si muro Si muro Si No no E' dubbio Regal Sospetto Da'ero pure Per omi Che accusava Cerchiamo di Cerchiamo di ragionare Posso fare una domanda Ho visto Hank Che usciva dalla botola Di Upper Engine Quanto poi Posso dire una cosa Posso dire una cosa Posso dire una cosa Posso dire una cosa Però se non è lui Poi io Votiamo te Votiamo te Votiamo 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 Dio porco Allora Prima di tutto Prima di tutto Io e Barbara Siamo di nuovo stati insieme Tutto il tempo Quindi lei può dire Che io non sono mai uscito Dalla botola Secondo Non sono neanche mai Arrivato in Upper Engine E mi hanno visto altri Camminare in caffetteria Tutubi Se mi accusa così È perché è lui L'impostore Questa è una mezzogna Potete tranquillamente Potete tranquillamente Probabilmente dalla botola È uscita prima Barbara Che non ho visto E poi Hank Ok fermi tutti Chitano Dove stavi? Medical Upper Engine Attualmente adesso Oddio sai che non mi ricordo De preciso Non ti ricordi E quando è l'ultima volta Che hai visto Umi? Sai che non me lo ricordo È Umi Non l'ho proprio visto Umi non l'hai visto Ma ti ho visto Allontanarti insieme ad Umi Pezzo di merda No tramite Poco fa Poco fa Poco prima che suonavano Quella merda Dell'arme Io ho votato Due dubbi E Chitano Ma a me mi sembra Sicuro ti ho notato Non è vero Ad un minuto E poi lo ho visto Simone E poi vediamo Per Chitano Io lo ho visto Simone Stavo a Lico Encre Ma hai visto Ma hai visto E' vero Mi sono preso Pure a briga De fare merda Ne facciamo Pianto Non l'ho notato Non è Che cazzo Come nel corredore Come fai a notare A non notarlo Te stava attaccare Ma chi sono Dove vota Io vedo uno Che esce D'antana botola Prenda la briga De fa emergency E mi ha votato A me Comunque Tu lo stai Affoperti Lì Perché se no Non li ammatterai mai In coppia No No Io Ed è anche La famosa Sottissaggione No Due dubbi Addio Si può Punito Proprio Fai le tasche No Ma io voglio Fa Vincere Le perde Chitano Che mi ha ammazzato Anche per davvero Si Anche Che è il chitano Che è il chitano Che è il chitano Oh Ivan Amo un gas davvero Come fate a dire che è anche entrato dentro di una botola Ma il fatto di che c'entra Simone? Dutubi è il terzo impostore Un'impattiva Stavo drogando però prometto che non lo faccio più E prima divideli Ragazzi Una cosa prima di iniziare Vedi un attimo sul mio canale Vedi chi sta dietro di me Vai sul canale di Don Vito subito Cioè sta una persona Me lo chiedono spesso di metterlo E già l'upe devi dire Aspetta un attimo Oh regà Io faccio l'ultima partita poi continuo a fare cose Ragazzi Torniamo a fare cose nostre Non vi preoccupate Le cose nostre Grazie a Fabio Ma va a fa culo Comunque ragazzi Vi ricordo che domani ho la maratona Tutti da Don Vito TV Stanno dei baleni Manca uno Manca E' uscito Scrumox Grazie Vincenzo e Dav Che carino In realtà Voglio vedere la chat Vabbè Da santo sì ho qua giocato Off live si gioca molto meglio Poi la prossima live la lavoro spalla E' proprio quella che lo vedi La staffa Guarda me Mi metto a giocare con loro Guarda Ivan Taci suo che mi segue Perché mi segue? No no Forse equalizziamo No no dai Questa famola secondo le regole A parte me dovevo sta zitto effettivamente Ma perché noi seguiamo le regole? Noi cioè E' anormale che le seguiamo Quindi Seguiamole solo stavolta Che vi sta piacere Comunque calcolate che sono pure le prime volte E non è che stiamo Io non ci giocavo Tipo da All'agosto Un giocatore di quelli accanieri Però devo dire che il gioco mi piace molto Però che invece te fa task E basta Dovrei un attimo Stare in Daga Adesso provo ad andare alle telecamere Passo che mi tengo che dopo Che tanto no Ma questa Io mi sentirete esclude Gianluca e Barbarella E infatti è morta E infatti è morta E infatti è morta Poveretti Un secondo fa Io lo so dov'era Un secondo fa stava nella quest Quella della carta In admin Nel tavolo col pannellone Quella della cartella Io ho chiamato il meeting Perché c'era Andrea Che è entrato dentro Mad Bay Ha fatto finta di fare lo scan E poi è rimasto E' o meno Io lo vedo che va in giro Non lo so Stare in zitti No perché c'è stato due secondi sopra E poi Stare in zitti Stare in zitti Torco io Allora Ivan Sei tu Che hai fatto una peccata Io non ho neanche fatto lo scanner Ho visto Ci sei salito sopra Non ci sono salito sopra Ci sei salito sopra Ragazzi Ivan è un impostore Non so Impostore No 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 Si si hai fatto una finta task E in pucci A quale finta task Quale dimmi Allora Non credo che Ti vanno t'accusi così Perché ti dovrei accutare Fin dall'inizio Io ho fatto una finta task Al primo round Così a caso Mamma Non ti sto dicendo che sei tu Non ti ho detto Non ho possenza formazioni Vedete Io non ho fatto un po' Votato Ivan Non ho detto Votato Andrè O di otto Ti ho chiesto Come mai stavi facendo Col movimento strano Non ho fatto Votato Viva Stai fermo No Stavano con me Schippiamo e teniamo d'occhio Io ne ho Io schifo Troppo Ci so Perché eravamo soli Sei zitto domito Non ce ne frega un cazzo mi ha votato ok flame to dubbi bene non è riuscito fatali sta nera sicuro e chitano i mortacci non abbiamo chitano e buono quello che in elettrica io solo non ci voglio stare però non è buono dai possiamo salvarci ragazzi possiamo salvarci l'elettrica mo' è popolata se ci sbrighiamo no guarda che c'è il muro che succede il cavato simon simone ne manca uno all'appello è morto tuto ma ne mancano due sia da un vito ma nessuno trova di cadaveri ma io da un video l'ho visto un secondo fa greve io so dove uno dov'è un cadavere e due so che un impostore chi è l'impostore sembra la frase da impostore allora ho visto uno e il chitano uscire da una bottola prima come ma quando chitano l'ho visto varie tasche reali per chitano pota per chitano io ho votato per chitano guai a vittorio c'erano i miei panetti vecchi compagni e si abitano scusa che può essere come i miei panetti che ci stanno a culo però è il mondo grudel e vediamo sarà chitano cazzo è numero modissimo no no cazzo è perché andrea mi sembra strano che mi accusa non l'ho mai visto andrea io poi nomi cosa buco ma cazzo è una vostra leggo che è in posto che sei morto e dove ce l'ho la legge dal cellulare non riesca a fare l'accesso al cellulare omi io te voglio bene ma gli fermo un corridoio non fa niente subito subito prima che subito dopo che sono scattati all'armi qualche che stavate parlando con te c'è io ho visto fermo un corridoio subito dopo che sono scattati all'armi non fa niente manco davanti a natasca si ma che è che sta parlando se tiro 6 andrea per del trono il trono ma ce la fai ma io ho accusato chitano che è uscito da una botola e simone l'ha visto ammazzare è ma può essere che siete voi due capito simone l'abbia perché è andato a spi a spingere il pulsante infatti il regolo ok scusa chiamate il meeting perché perché la chiamano perché pensavo fosse playing che difende la chitano palesemente dai tu steppe il classico gioco che vuoi farmi buttare fuori a me a buffo perché io e te ci siamo incrociati mezzavola su chitano abbiamo delle prove definitive perché anche panetti l'ha visto uccidere ok a meno che non siano loro due apre l'opportunità che sia panetti e omissioni agli assassini però non avrebbe però enrico enrico se fosse così andrea forse non avrebbe anche potuto evitare di chiamare il meeting per fare una doppia kill insieme a panetti e vincere la parla porco dio avrebbe potuto evitare di chiamare il meeting in quanto con una doppia kill andrea e simone avrebbero vinto la partita non sono simone o mi è effettivamente abbiamo ucciso uno degli impostori che era il pitano quindi rimane il fatto che frame l'abbia difeso ma non vale un granché secondo me dato che non è il caso di tirare di uccidere un altro a capire che vuole no scusatemi ho solamente detto che io chitano con trono stavamo in elettrica e abbiamo fatto due o tre tasche si ma c'è lui che sono tre volte che lo vedo davanti alla tasca da solo o feca da solo oppure per me è pulito pulito rega però è andrea che mi sta incolpando a me quando mi ha visto a me andrea e non capisco io ragazzi per questo non lo so quindi io propongo di schifare ma io non mi va di accusare tutti mi sento colpa enrico se hai fatto la place mastermind e complimenti ma poi no flam e non ci credo non so tosta è tosta perché anche parla troppo poco io sembra pulito io mo si seguo panetti anche 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 tutto quello che vedete volevo solo farvi paura moda moda e porco di un momento seguri io la butto su anche ogni ador che che trono non è e vedi perché non va risolve risolvere io da fantasma non posso no panetti ha fatto no ma panetti come ha fatto a passare così velocemente hai visto eh che ne so io sono un'altra parte no rega me sta un po e allora accusalo panetti è passato troppo velocemente c'è stava la con me guarda ma che cazzo fa come è panetti beh non posso farla secondo me è panetti non lo so fallite come finiste cazzo te task ah bene voglio allora diamo le foglie puoi dire andai in admin e voglio vedere se qualche testa si è sposta velocemente da un punto all'altro a me non mi stanno ammazzando io ho quasi finito le task da fantasma vedi stanno insieme uno da me non è passato porco vedi potevo becca un killer qua ah rega per me è andrea è omi non mi interessa eh rega devi smutare devi smutare dov'era il corpo rega bisogna votare per me andrea per me andrea non mi interessa dov'è il corpo dov'era il corpo andrea non ci sente andrea andrea sei mutato perché hai preso una botola no ma che cazzo dici adesso con la botola no è andrea fate 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 e fa sto voto a andrea va bene va bene questa accusa così a cazzo finale non ha senso Ragazzi votate Hank per favore Addio Poi votiamo Hank E premi subito Ne avete perso belli Bravi Dici No Hank è un genere del male Maledetto No Aiuto no Assurdo Aiuto Grazie Che testa di caldo Mi fate faticare Bravi tutti ragazzi Giustamente Enrico mi fa fuori Perché l'avevo un po' sgamato Ehi Però ti ho scoperto che eri buona Una certa Ma io avevo i sospetti su Dede Andre Bravi parlare Bravi parlare al posto di votare a casa Così Tu avvi difeso il Chidano Mi aveva appena ucciso Chidano Eh lo so Ehi dispiace Eh Raga io stacco Che stavo per i due partiti Oh ferma Io ho preso all'ustio Ragazzi ho pure preso all'ustio È stato un piacere Ragazzi Perché il lost non sta facendo la partita Ma tu hai Un minuto Ciao il trono dei muori Ciao 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 È stato un piacere Ragazzi Grazie a tutti Scusate Abbiamo perso pure il corpo mio Che non ci ho capito un cazzo Onestamente D'autosato da Andrea Ho sbagliato Dovete stare Dovete iniziare Sì sì stai buono Me lo facciamo Io devi fare l'ultima Poi basta Oltimene Mi dispiace Volentieri Le prossime volte Va bene va bene va bene Vai Ciao a tutti Ciao 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 Grazie a tutti Ciao ciao Mi diverto a fare se così in compagnia Con altri stream È una cosa bella È una cosa bella Ho avuto i sospetti E ho fatto la cazzata Lo sai Mi raccomando Ma all'inizio È del beccato che a bordo Devo capire che le luci Se illuminano Quando ci sono Preghazzo Di legare Dimmi Quando sei alla fine Chiama sempre il reattore Non fare le luci Perché il reattore Li costringe ad andare Entrambi in là E a risolvere la cosa E quindi non stare vicino al pulsante Quindi non si sbaglia Con i tempi E essendo in due O si muore di reattore O muori perché non uccidi uno Ok Se uno dei due Decidi non andare Diventava buio Era più facile uccide Però è perché è meglio Se abbiamo il range ampio Come assassino Ma raga Facciamo l'ultima Erika io devo Proprio rimasta Che c'erano Tipo ritardissimo C'erano Massimo Massimo se n'è andato Vasta salutare Ma stavo dicendo Una cosa Lo sai Omniator Che a Montri Mi fanno Quando è che faccio Just Chat Inche ora Con il green screen Mi ricommetti La foto di Omniator E metto te Come immagine Grandissimo Chitano Dimmi Ma tu stai uscendo Ehm Sto uscendo Ma stavo annacco Veronica da una parte Ok Va bene E non lo so Poi se sentimo Ciao Antonio Dai ragazzoni Vi saluto Buona partita È stato un piacere Ciao Rocco Ciao Rocco Brazze Ciao Spokimage Come sta? Quindi Tre persone Sì Forse io ne ho una Aspè dai Della bro Grazie Adosto Non c'ho reggita Aspetta Provo a prendere il controllo Ciao Rocco Brazze Ciao Rocco Brazze Sì Eh ma mi ha detto Salutare Rocco Brazze Lo salutare Dai non mi uccidete più Per prima Eh Barbara Allora se non muovere Se non muovere Se non muovere Se non muovere Barbara Sì neanche Barbara Allora L'hai fatto Sì Vabbè questa è una strategia Di un mese fa Barbara La Io l'ho detto In live Ho detto Barbara non mi stare vicino Eh lo so ma sembravi così buono Lo so lo so Fino a quel momento Non avevo ancora infilato Il coltello Nella pancia di nessuno Ma tu Mi hai dato una certa sete di sangue E tra l'altro Mi hai saluto a tutti quanti Neanche mi hai Accoltellato Eh Grazie a tutti quanti E per esempio Mi sono ordinato un globo Domani vi ricordo Un globo di riparamento Sì ho preso dei dolci Ho preso dei dolci Vai facciamo l'uso Ma manco la cosa C'è l'abbiamo due Già eh Abbiamo Damiano ECR7 Ciao Axel Mi dissocio Re Kino Ciao Ma ci sta Il botto Automatico Se volete essere salutati Basta che Iscrivete Donate qualche bit Il botto Vado a prendere un attimo Un occhi tasca Arrivo subito E' meglio Grazie Damiano Ok Damiano Ok R7 Damiano Ci sta pure Senta Ah no Senta Ah sì sì Beh Non sai perché si devono Subbare per forza Sfochi Però Saluto Chi riesca a salutare Chi è Damiano 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 Il faina Quello che lancia gli accenditi Contro Non credo Mi dissocio Mi dissocio Ma Stavo invito E per a me In comunità Da influencer Che non voglio avere A che fare Con In comunità Cosa sta dicendo La mia community Da influencer Che A parte che domani Devo distare qualcuno Quindi Però L'ho promessa E mi fanno Se mi aiutano A fare Con la sposta Una cosa Non vedo Candidati alle politiche Ti prego Vinci per sfinimento Sui tuoi avversari No Guarda Io se mi candidati Alle politiche Le vinco tutte Eh c'è Credo Che Non mi ha trasporti Maggi Penso che devi spostare Sentasse Comunque Ma che è Pino No E sentasse Deve entrare Però Salve Salve E che è Pino Eccoci Non ci interessa Grazie Mi avete pagato Il globo Perché non mi pagate Il globo Fatta Vai vai Giochiamo Giochiamo C'è il camo De non mori subito Tanto cielo Allora Che quando c'è Spento Stiamoci Va a bordo Sta contento il kill Buongiorno Buongiorno Grazie a te Dov'era? Dov'era? Hank lo sa Forse anche Don Vito lo sa Io stavo Alle foglie Ho visto Hank Hank non può essere Perché non mi ha ucciso Perché Non è una giustificazione Inoltre Se avessi ucciso Damiano Avrei il cooldown E quindi questo Ma dov'era Damiano Scusami La tua affermazione La tua affermazione L'ha nulla Dov'era il cadavere? Ma scusami Alle foglie Hank L'hai visto Ma chi hai dato del down Perdonami Eh? No 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 Il down Cool Ma c'è stata l'idea Ma scusami No 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 Comunque Comunque L'ho visto in navigation Quindi Hank È Navigation Io sono stato In navigation A fare i meteoriti Ed ero con Damiano I meteoriti Non si fanno in navigation Caro Hank Per cui Mi sembra Ah no Ho ragione Ero in weapons In navigation Non ci sono mai entrato Mi sembra un po' confuso Hank Perché Sembra un po' confuso Hank Non è ancora morta Ragazzi È Barbara È Barbara Possiamo fare Dei ragionamenti Allora Andrea Non è in questo round Allora Andrea Io vi dico All'inizio della partita Io ero in weapons Con Damiano Quindi nella stanza Sopra dove hai trovato Il cadavere Poi sono sceso giù E sono andato A ossigeno Dove la mia presenza È confermata Da Don Vito Questo Era nei paraggi Dell'assassinio Sì Non ho visto L'assassinio No Quindi sono Non sospettato Ma non hai prove sufficienti Per dire che sono stati Sentiamo invece È uno che va a ossigeno Visto che gli accanto Stiamo perdendo tempo Perché va giù E non va a fare le task In navigation Perché io ho le task Da fare in ossigeno E faccio quelle in ossigeno Sentiamo invece Che cosa ha da dire Scusami E scusami E non vi lo Vuol dire A questo Mi portate tutti a casa Per ogni volta Io ho schifato Schifato Le foglie In o2 Insieme a Hank Però anche se è andato Un po' più Barbara mi spieghi Mi dici dove sei andata Quando ci siamo persi Di vista E tu sei andato Adverso sotto Che sta vicino A mister flame Quindi Prima la barba Io sono andata A sinistra Non è vero A sinistra Sono andato io Non è vero Non è assolutamente vero No Tu sei andato A sinistra Tenete d'occhio Barbara Tenete d'occhio Barbara Sapere se è vero Tucca capire pure quando Io te lo so Sto prendo ansia Per favore Omi Omi No no va bene Sto restate con me A me non mi Uccide per prima Nessuno Ok Ivan è super influente Mi ha detto Barbara Boh Du odia Sì a buffo Io schifo Se non so Se vuoi di schifo Ah si schifo il voto Certo Adesso non c'è un cazzo Che beffa Non è un bad day Anzi Quella è un bad day Sei male Un sacco di gente Qua Il cadavere Era venuto anche Don Vito Però l'ho visto Però l'ho visto prima Don Vito E poi l'ho visto morto Agli scudi Ivan Shield Quindi è Barbara È Barbara allora No 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 Don Vito Io so Allora aspetta Perché Barbara Aspetta Aspetta Perché non è tu con la nuova Quindi Ah ok Mi scusi Io ho visto Barbara Venire da in basso a destra Ed è venuta con me Verso elettrica No come in basso a destra Se eravamo entrambi Che hai votato Don Vito Perché hai votato me Perché dice le stronzate Io sono una valicella Non voglio uno che dice stronzate Anc 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 Se non sono io Mi regali di Cisab No Se non sei tu Non dire stronzate Posso dire una cosa Anc mi sembra buono Perché eravamo io Lui in electric Lui ha fissato le luci Sono arrivato E ne sono fatto un'altro Uno all'altro A cosa c'è Ah io non sono E penso che Don Vito sia buono Ma per il bene dell'indagine Lo vorrei rimuovere Questa è l'idea azione No ma porca miseria Una roba Meno i bambini stanno Più cattivi stanno Più morirete Ok È una forte affermazione Ma c'è chi inquina I discorsi Io ho schippato Io ho schippo Perché non sono io Schippate Non sono io Sono andato a fare le tasche Ma solo che non sei tu Ti voglio eliminare Perché inquini le conversazioni Ma stai zitto No è cattivista Allora Schippo allora Schippa Schippa sto cazzo dai No Vedo che No Tanto cielo Non so quante c'è no Da fa qua Tutto 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 Simo fai le tasche Simone Che sta fa' Fa' le tasche Mi stanno pure in ripeto I mortaggi tu a dodutti Magari Magari Ti sgavano Oh Non ero mutato Dove hai mutato Don Vito Ma perché Esci da electric Entro in electric E c'è un corpo morto Che centro Ma se mi stai prendendo per il culo Non stai in electric Ho dubbito Ma come mai riuscito da electric Te Ero in navigation Raga Eh sì Navigation Sì Va bene Ma racconti giusta Ho saputo Ero in avuto Vito Fili di buone E' Simo Volpe E' quel Sì Va bene Sì Va bene CR7 Sono Non Simo Volpe Vabbè CR7 Ragazzi Eh sì Sì C'è ragione Don Vito Se non sono io Chi sta qua Mi regala Di città Ma Sono povero Sono povero Don Vito Credete a lui Siete dei deficienti Scusate No Dai Ne ha prendito Ah No 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 io mi associo Siete dei dei Don Vito Ciao Don Vito E' stato un piacere Allora devo eliminare Deve vincere i dubbi Devo eliminare Devo eliminare i più intelligenti Quindi mo se ne va Enk Il primo che ha ucciso E' stato Ivan È di ammazzare Enk Sì 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 C'ho il counter Sì Però non voglio stagliere Troppo addosso Capito Io non ti Dov'è No 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 E' barbara che sta Tasta Lei è male Non sei in grado Dovresti Da qualche Eh non so E' la prima volta Che sono impostore Da quando c'ho Among Us Eh devi C'ha il tasto Sabotage Sabotage E poi c'hai quegli simboli Che sono tutti uguali E' per chiudere le porte Poi c'è sta Quello a sinistra Che è per mandare Quello che si risolve in due Quello in elettrica Per leva la luce E quello dei ossì Ah vedi Stanno tutti insieme Comunque la chat Ma io ne ho fatto E quante kill ha fatto Eh tipo tre Eh stanno tutti in coppia Ho killato con una maestria Guarda c'è uomo Mi sta a trollare Sta sulla botola Io non vedo perché Dovrei usare botole Cioè Fa più male Fa più male che bene Eh no In certe occasioni Si è poco vitale Faccio il report Ti ho trovato Ho visto Esentasse Sulla sinistra Della caffetteria Nel corridoio Sopra la mad bay Morto Caffetteria? Barbarella Arrivava da nord Eh infatti Io entro C'erano le sette anche Sono safe Sì Però C'erano le luci spente Io stavo andando là per Eh non lo so Non ho Se c'era il corpo Sicuramente non l'ho visto Ma Si illumina Tasto Mmm Allora Non è ancora morto nessuno Sì Comunque Sembrerebbe Che Don Vito Fosse uno degli assassini Perché è l'unico Io ero sempre In compagnia di CR7 Che può Diciamo Sempre Effettivamente Ho visto Omi sempre Accanto a A coso A Esentasse Omi è safe Secondo me Dall'inizio è sempre stato safe Secondo me Omi Omi non mi puzza particolarmente Ma Diciamo Aspetta Chi è l'unica persona che era da sola Oltre me Ma Tendenzialmente Io sono solo di CR7 Chi è che era Che CR7 Tu dove eri Io sono sempre stato con Hank Tutto il tempo Da fare le task in electric Fino a spostarci ad admin A risolvere le luci Io ero da solo Però stava a fare task Ok Io l'avete Mi tre task Qualcuno Probabilmente Qualcuno probabilmente Che dalle luci elettriche Si è spostato con la botola In medical E poi è andato su Non penso Io guardavo le videocamere Avevo visto il corpo Già lo sapevo E volevo vedere Chi ci passava vicino Se lo riportava Oppure Quindi hai visto che io Non ci sono passati vicino Ho visto morto Non ho visto te Non ho vabbè Ma comunque siamo in 5 C'è solo negli ostore E io dovrei dividere qualcuno E quel qualcuno è Barbarella Subito su Barbarella Allora se ci fidiamo Del fatto che Don Vito Fosse un impostore Abbiamo tutto il tempo Se non ci fidiamo Abbiamo perso Se non votiamo qualcuno Ma come fa Andrea Essere così sicuro Dai Era Don Vito Lo vi suscite Possiamo riscarle schippare Possiamo riscarle schippare Però Io schifo Se sono due assassini Abbiamo perso Se siete due Barbarella Ad esempio abbiamo perso Non sono io Andrea Dai Sono stato con CR7 Tutto il tempo Era Don Vito Che usciva da Lettri Devo ammazzare Hank Porco Cristina D'avena Ah Guarda che sei Ah zì Hai fatto una kill Vento Ma come Ma sì Comunque Chi avete cacciato fuori Nessuno Chi è stato cacciato fuori Adesso Nessuno E allora fai una kill Ammazzami Non ho fatto veramente nulla Durante questo partito No tranne ammazzare me CR7 Per quanto motivo hai detto la cazzata che ero io Pensavo che eri tu l'assassino Ma perché non hai riparato il corpo Eri in coso Eri in electric Ero Che cazzo dici Che ero in genere La fine della quest Ma sei Tu sei caduto di testa per terra Quando sei nato No No Vito No no Non mi dica così La denuncio La denuncio No io sono incazzata Meglio non ti dico cosa Ti ho detto Attenzione Attenzione La denuncio io però Denuncio Attenzione Grazie per me Ti querelo eh Ma non solo io Avremmo dovuto chiccare Avremmo dovuto chiccare Barbara E vabbè Non l'abbiamo risalata Io ero innocente Ragazzi Caffetteria vuol dire Mensa Non caffetteria Ragazzi Noi stiamo andando Grazie mille per la serata Grazie mille per le partite Anch'io ragazzi È stato breve ma intenso Ciao a tutti ragazzi Ci vediamo domani alle 15 Ci vediamo domani alle 15 Ci sarà una live Di una persona Che ho conosciuto Cioè su una persona Che ho conosciuto In una live di Livio E Un esperto Rimorchiatore L'avevo già preannunciato A domani alle 15 Ciao a tutti Ciao a tutti Arrivederci Ciao Non mi sento molto bene Non mi taglierò le vene Ride a Omia Doll Ride a Omia Doll A vedere Un punto di morte Sono a casa In cadene Gli altri escono Tutti insieme Ecco un podcast In azione Che presto Cambia la mia sorte C'è C'è vero Però, Bob Bob Podcast, troppi goblin in questo mondo, non sarò un cloche, né tanto me non deve, perché ogni giorno guardo. C'è vero, Bob Bob Podcast, c'è vero, Bob Bob Podcast, marranichi di Shadebe, dei murraranarana, c'è vero, Bob Bob Podcast. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!